Buonanotte, anch'io. Ciao Filippo, ciao. Tutto bene? Scusate, posso? E tu? Questo non lo mangi? Ma tu non avevi detto che non avevi fenne? Ah, ti ho cercato Valerio. Ha chiamato me perché il tuo cellulare non prendeva. Dice che non gli rispondi mai. E allora? Ma ha detto qualcosa? Niente. Che ha chiamato? Dice che sono gorgeous, che significa? Che ti si vuole fare. Ah. Sai che c'è? E che non sei riuscito a farmi ridere neanche una volta. What? Eh, what, what. Ma che ti ridi, ma non c'è proprio niente da ridere. Did I do something wrong? Che sta succedendo? Niente Anna, non ti distrarre. Batti da fare. I want you. Me and you together. I want a baby with you. Cosa? A baby that has your eyes. Dice che vuole un figlio con te, digli che è arrivato tardi. Che stupide che sei... E poi... Che stupide che sei... Che piace... Grazie a tutti